Avantieri sera, che era venerdì, non c'è stata associazione di idee. Ieri sera, sabato sera, non c'è stata associazione di idee. Stasera, domenica sera, c'è associazione di idee. Perché con la presenza di questo mio amico architetto stiamo vedendo Daniele su Rete4 con grande ma grande piacere. Attenzione, guai se qualcuno parla male di Daniele Capezzone. E se qualcuno parla male di Daniele Capezzone verrà ricevuto lo schiaffo dal sottoscritto. Con questo è tutto, cari amici e cari amiche, e auguro a tutti quanti una buona serena serata.